Per quanto riguarda le altre schede madri della famiglia ROG come ad esempio la Crosseiro 8 Formula cambiano soltanto il posizionamento di poche voci che piuttosto che essere in un menu sono in un altro abbiamo le impostazioni at default esattamente come quando comprate la scheda abbiamo due possibilità di visualizzare il BIOS quindi le Z mode e usando il tasto F7 passare all'advanced mode che andremo a vedere tra poco nelle Z mode abbiamo le informazioni qui in alto per quanto riguarda appunto la scheda madri del processore installato con la frequenza del processore e l'ammontare di memoria con la frequenza della memoria installata la temperatura del processore e il voltaggio impostato automaticamente del processore come potete vedere è 1.46 è un valore assolutamente esagerato per quanto riguarda questi processori appunto assolutamente esagerato per quanto riguarda questi processori abbiamo le altre informazioni appunto sulla RAM, sullo storage qua in basso possiamo vedere il funzionamento delle ventole installate e la curva della velocità delle ventole in base alla temperatura rilevata abbiamo la possibilità di andare a impostare l'overclock automatico delle memorie con il DOCP che è un po' come l'XMP c'è profilo 1 che ad esempio ci va a impostare le memorie a 3600 MHz perché sono delle memorie da 3600 MHz e qua ci dice che l'FCLK converrebbe non portarlo oltre i 1800 MHz sta parlando di interconnessione e un eventuale overvoltaggio del SOC che è appunto quel valore di voltaggio che va a toccare l'interconnessione un eventuale overclock può portare ad una instabilità di sistema adesso noi come potete vedere ha portato le memorie a 3600 impostando dei timings automatici noi adesso lo riportiamo sul disabilitato un secondo possiamo andare a modificare il QFAN questa cosa qui la potete fare anche premendo il tasto F6 abbiamo la curva appunto di funzionamento della velocità della ventola in base alla temperatura registrata possiamo ad esempio buttare tutto su full speed e le ventole partiranno a razzo al massimo e lo potete fare su tutti i sensori e tutte le ventole che ci sono e nella parte destra abbiamo la possibilità di modificare ovviamente il boot priority quindi l'ordine di boot eccetera passiamo alla modalità avanzata che è quella che ci interessa di più premendo il tasto F7 allora la voce MyFavorites è sostanzialmente racchiude le funzioni che andate a toccare più spesso all'interno del BIOS in questo caso per noi abbiamo memory frequency il voltaggio di CPU e RAM perché abbiamo effettuato overclock mille volte quindi ovviamente va a toccare è andato a registrarsi questi dati nel main abbiamo le informazioni di sistema del BIOS possiamo solo cambiare lingua e data e quant'altro i tweaker che è assolutamente la parte più interessante di questo BIOS ora tutto in automatico perché è l'impostazione di default che il sistema ci dà in questo caso abbiamo le memorie impostate a 2133 MHz che è il valore minimo che imposta il performance enhancer è su auto e questa funzione permette come ci dice nella parte bassa il BIOS di mantenere il boost del sistema del processore più a lungo per aumentare le performance anche l'interconnessione FCLK è su auto ed è tutto impostato ovviamente in maniera automatica questo cosa vuol dire? vuol dire che il sistema perché se noi entriamo anche nel menu precision boost ed è su auto potrebbe già effettuare automaticamente un overclock un po' come preferisce lui in base alle tensioni ai voltaggi del processore ai voltaggi e alle tensioni della scheda madre che eroga la scheda madre e alla temperatura del processore torniamo un attimo indietro ovviamente c'è il menu relativo ai timing delle RAM e tutti i vari voltaggi relativi al sistema nella parte Advanced abbiamo ulteriori sottomenu che sono quelli che troviamo poi in tutte praticamente i vari BIOS che ci sono in circolazione quindi altre impostazioni relative alla CPU ad esempio c'è la possibilità di abilitare o disabilitare l'SMT che è praticamente il multi thread del processore quindi in questo caso essendo un 8 core 16 thread diventerebbe 8 core 8 thread abbassa la temperatura ci ha permesso di salire un pelo di frequenza ma ovviamente non si hanno benefici anche perché la frequenza che abbia raggiunto è di appena 4400 MHz quindi non ne valeva la pena questo menu ad esempio nella crosshair formula lo troviamo direttamente nell'iTweaker qui sotto il CPU corratio se non mi ricordo male tornando in Advanced appunto ci sono le varie altre impostazioni per quanto riguarda la CPU abbiamo le impostazioni del SATA la funzione del PCI Express se farlo funzionare a 16x, 8x e quant'altro le impostazioni sulla USB eccetera e poi c'è nuovamente un menu AMD overclocking che in primis ci avvisa di un possibile danno eccetera eccetera se noi accettiamo possiamo andare a modificare quello che è appunto la frequenza e i timings della RAM l'impostazione di Infinity Fabric Frequency che è l'interconnessione e quindi l'FCLK che abbiamo già visto prima e i vari voltaggi praticamente va a riprendere quello che fa l'iTweaker abbiamo poi ovviamente il menu monitor dove vediamo le varie temperature e la velocità delle ventole il menu boot cose che conosciamo già quindi l'ordine di boot e quant'altro tool per flashare il BIOS oppure salvare i vari profili e poi c'è ovviamente Exit che appunto ci fa salvare e uscire dal BIOS ora tramite il tasto F11 abbiamo le Z-Tuning Wizard che ci permette di effettuare un overclock automatico fatto dal BIOS stesso quindi lui prende le informazioni attuali del sistema andando avanti ci chiede per che cosa vogliamo utilizzare il computer quindi in daily o per spingere un po' di più al limite le performance in gaming o in fase di editing noi scegliamo in questo caso questa opzione ci fa impostare che tipo di dissipatore abbiamo e in base a queste informazioni adesso abbiamo per esempio un CPU performance dell'8% invece sulla Crosaire 8 Formula ci dava l'11% e per esempio in questo caso della RAM 0% sulla Crosaire 8 Formula ci dava il 3% noi ovviamente non abbiamo usato questa impostazione per effettuare l'overclock 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 si può impostare ovviamente manualmente tramite l'i-tweaker basta impostare nell'i-overclock tuner la voce manual ci va ad aprire quelle che sono le varie voci e comunque che non cambiano tantissimo in realtà rispetto a quelle che c'erano prima possiamo impostare manualmente la frequenza della RAM e in questo caso andare ad impostare il moltiplicatore a nostro piacimento una volta impostato il moltiplicatore dobbiamo andare a mettere manualmente il voltaggio 1.4 per noi è troppo mettiamo 1.36 anzi facciamo 1.37 sulla Strix e proveremo a vedere se funziona proviamo a F10 salvare e vedere se ci tiene questo voltaggio ecco come potete vedere siamo di nuovo dentro il BIOS la frequenza è di 4.300 MHz con un voltaggio pari a 1.37 6 volt in questo caso abbiamo il performance and answer su automatico conviene metterlo su default così almeno non va a rendere instabile il sistema e il precision boost è su automatico ed anche in questo caso conviene disabilitarlo perché abbiamo effettuato un overclock manuale quindi la cosa da fare in questo caso sarebbe entrare nel sistema ed effettuare dei bench per vedere se il sistema è stabile e quant'altro noi vi diciamo già che noi abbiamo effettuato questa prova e la temperatura diventa talmente alta che non conviene assolutamente tenere questa frequenza e oltre questa frequenza questo processore con questa scheda madre non siamo riusciti a portarlo addirittura a 43 non siamo riusciti a chiudere Cinebench quindi in realtà questo valore diventa 42.75 e in questo caso siamo riusciti a chiudere Cinebench ma ripeto a temperature veramente esagerate e non ne vale la pena quello che vale la pena fare invece per quanto riguarda l'overclock è lasciare in automatico questo valore impostare un un V-core per quanto riguarda il voltaggio della CPU a.1.37 al massimo perché conviene non superare determinate soglie e andare ad impostare il performance enhancer sul livello 3 e quindi tiene l'overclock tiene scusate il boost più a lungo in assoluto ed andare ad abilitare il precision boost in manuale ed andare a mettere i limiti del funzionamento del precision boost a valori veramente molto elevati questo praticamente toglie i limiti alla scheda madre che non farà cioè sostanzialmente tenderà a non far tornare i valori di overclock automatico a default e quindi sostanzialmente andiamo a dare un override di 200 MHz quindi un overclock in boost di 200 MHz questo tecnicamente porterebbe il processore a 4.6 GHz di boost poi nella pratica non li abbiamo mai visti però abbiamo comunque riscontrato un incremento di performance che è paragonabile a quello che è relativo a un overclock manuale che abbiamo visto prima però con temperature decisamente più umane e quindi è questo l'overclock che noi consigliamo e altra cosa che consigliamo di fare è di lavorare sulle RAM quindi andare ad impostare manualmente la frequenza di RAM che in overclock che volete utilizzare e andare ad impostare l'FCLK che è poi l'interconnessione l'Infinity Fabric a un valore pari 1 a 1 in questo caso è scusate ho sbagliato in questo caso è 1800 MHz perché è la metà di 3600 dell'appunto della RAM quindi giocare su questi due parametri è sicuramente la strada giusta per quanto riguarda l'aumento delle performance potete ovviamente andare a toccare poi i timing delle RAM e eventualmente fare un piccolo overvolt sulle stesse e in questo caso vedrete dei miglioramenti per quanto riguarda le performance quindi questo è il BIOS delle schede ROG e per ora è tutto e per quanto riguarda